Poi per il video abbiamo chiesto uomini e donne, facciamo il solo Emanuele. Gianni Serti! Carina! Carina! Emanuele per te c'è Onno! Per te c'è Nicoletto! Non facciamo questa scena, non facciamo questa scena! Oh bella! Manuel per te c'è Daniele! Sono cose che non si possono vedere eh! Manuel per te c'è Emanuela! Emanuele per te! Emanuele per te c'è Daniele! Ma letti mettere davanti! Emanuele per te! Emanuele per te! Emanuele per te! Emanuele per te! Un attimo! Allora commentiamo l'esterno! Maria posso dire una cosa? Io nell'esterno a Manu l'ho visto molto sbranciato con me, perché non so se il mio reggiseno era secco, ma lui l'ho visto molto preso, vero Manu? Invece Anna, per te? No, ma io al fisico ce l'ho a me, ma che cazzo lì? E Gianni? E soprattutto che io adoro la tua sinistra. E ti fai chiesto a mia? Bene. Manuela, come è andata la... E a me quando cazzo vedi? Come è andata l'esterno? No, ma cosa sono questi giardini? Guarda Maria, quando le telecamere se ne sono andate non ti dico che abbiamo fatto. Ehm Maria! Maria, volevo romparlo! Maria, mette una canzone, mette una canzone. Pubblicità! Pubblicità! Buon giorno! Buon giorno! bravi 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 vai facendo la pubblicità io bevo rocchetta e mi le curo ma sei coglione non facendo la pubblicità no no andiamo alla bru ha messo pausa ha messo pausa ha messo pausa facciamo la pubblicità a livelli di fuoragappi a livelli di fuoragappi sposti da qua cioè voi proprio vi sedete qua e bevenne i morroidi io bevo rocchetta e mi le curo mobili di fuoragappi a livelli di fuoragappi io bevo rocchetta e mi le curo non è la vita fa tic tac ne fa fa tic tac accenderemo della vita con tic tac bene, fine pubblicità e mettere con Emanuele con Emanuele E avviso il pubblico che forse lo regalo per Manuel da parte di Emanuela. E' una volta di un camion arrugginito. Posso dire una cosa? Manuel, a chi porti in esterno? Sono indeciso, però ho fatto la mia scelta. E' il lavoro. Lei, scusate. Dai, hai fatto la tua scelta, Manuel. Adesso che elimini... E non mi dò un beccio con la lingua. Va bene. Ci vediamo alla prossima puntata per la scelta di Manuel. E' una domanda! Tu devi ballare con Clay, devi ballare con Clay. Scusi, scusi, una domanda. Ma dobbiamo subito. Meglio ora. Subito, troppo tardi. Ciao, alla prossima puntata. Dai, dovete ballare con Clay. Devi fare Hemiflex. Hemiflex, materassi di marmo. Mio. Non l'ho da, bene. Non l'ho da! No, non l'ho da! Loris! Vai! Balla, balla! Daniele! Balla, balla! No, e continuiamo la prossima puntata Perfetto